Salve amici del Centro Meteo Italiano, la burrasca di fine estate a proda sulle regioni settentrionali. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per domenica 27 agosto. Al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio precipitazioni più intense sul nord Italia, con fenomeni intensi sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, locali instabilità sull'Appennino centro-meridionale. In serata e nottata attese ancora piogge diffuse sui settori montani e pedemontani del nord Italia, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, massime e stabili o in lieve calo al centro-nord, in lieve rialzo all'estremo sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.